Ma quelli erano video vecchi, poi sono cambiate alcune cose. E se vogliamo essere dei veri youtuber, bisogna rispettare certe regole che ora vi spiego. Crypta! Stiamo aspettando te! Ma quindi niente più like? A me piacevano un sacco. Oh, che ne sarà di noi teatranti se chiediamo di porre un piccolo like di sostegno alle nostre performance? Ma sì, il like puoi sempre dire di metterlo. Ormai è anche un modo di dire. Crypta! Vabbè, dai, intanto cominciamo noi. Devo prendere appunti? No, è già scritto tutto qua. Io lo riscriverò in rima. Si può... Dunque, si può sempre invitare gli utenti ad iscriversi sul nostro canale. E si può sempre dire di guardare il prossimo video, ma non si possono attivare le notifiche. Addio, campanella che trillavi dallo schermo, ignara del tuo destino. Meglio, la campanella mi ricorda la scuola. Niente condivisione del video. Cosa? Cioè, possiamo dire di condividere il video, ma non si può fare attraverso il computer. E se mi scappa di dirlo? La condivisione è una bella cosa. Se dici condividete, intendi che inviti gli utenti a dire ai loro amici di guardare un nostro video che hanno visto. Ma quando si vedono a scuola, in piscina, a calcio, a danza... Io non mi ricordo più come si fa a comunicare dal vivo. Appunto. Veniamo alle note dolenti. Niente commenti. Non si può più scrivere sotto un video o richiederne di signo. Ah, perché tarpare le ali alla letteratura, alla prosa? Che fine farà questo mondo? Beh, ma gli utenti possono sempre scriverci una lettera o una mail. Giusto. Oh, Gaudio. Finalmente il ritorno alla carta, alla penna, al calamaio. Beh, l'ultima lettera io l'ho scritta a Babbo Natale. Infine, non ci sono i link per gli altri video. Vabbè, ma uno può sempre cercarli da solo. Non è vero. Per esempio, se cliccate qui, potete vedere il video a scossa puzzano i piedi. Ma... Dai! Ma come... A scossa puzzano i piedi, a scossa puzzano i piedi, a scossa puzzano i piedi, a scossa... Ciao ragazzi, stavo cercando il mio occhio. L'avete visto?